buonasera buonasera a tutti eccomi con voi anche stasera per fare il punto la domenica sera di quello che sta succedendo e soprattutto di verificare se le previsioni eh in merito a un forte peggioramento molto intenso nelle nostre regioni su alcune delle nostre regioni si siano verificate e quali siano le eh prospettive per il futuro perché sono anche abbastanza avvincenti e ancora molto dinamiche guardate l'ultima emissione del modello americano a flusso freddo ancora dall'Artico e basse pressioni che si è avvicinando nel Mediterraneo ma quello che mi preme invece sottolineare come siamo all'interno in un'intensa fase di maltempo che pur non comprendendo ovviamente tutte le regioni italiane che si sta accadendo in particolare sulla Campania eh in parte stanotte sulla Toscana eh qualcosa anche nel Lazio eh nelle coste del Lazio meridionale eh ci sono stati numerosi allagamenti su Napoli Caserta tutta la provincia io li ho abbondantemente rifiniti con altri video ma attenzione attenzione che non è finita stanotte dopo una pausa ora temporanea un nuovo intenso peggioramento sta arrivando tra le coste campane forse Lazio meridionale poi eh Golfo di Policastro Basilicata eh mentre adesso sono in atto temporale lungo l'allineamento tra Toscana Marche Umbria Marche ancora che vi mostrerò ma attenzione ripeto a un altro forte peggioramento inottata poi arriverà il nucleo artico eh che porterà soprattutto eh rovesci grandinate ma in maniera meno eh diciamo continua più più sparsa e poi un altro forte peggioramento a carattere con piogge estese intensa potrebbe interessare il nord attenzione tra giovedì e venerdì quindi tutta una serie di una prospettiva di maltempo che non accenna a diminuire vi faccio subito vedere quello che le immagini soprattutto al satellite sono molto interessanti attenzione allora adesso questo è il nucleo che si sta allontanando dopo le forti piogge eh odierne ma guardate cosa sta arrivando una nuova struttura eh in seno al getto subtropicale sta risalendo dalle coste africane con altri nuclei qui c'è un temporale che sta agendo sulla Toscana questa struttura in nottata dovrebbe dare nuove forti precipitazioni tra Campania eh coste Basilicata ripeto forse Campania e Calabria anche settentrionale probabilmente tutto il basso tirreno e altri temporali più sparsi nelle altre regioni centrali vi faccio vedere altre animazioni guardate qui invece come eh questa attenzione fate bene attenzione questo è un flusso sudocentale qui l'artico che arriva l'enorme perturbazione tutto questo non farà che nelle prossime dodici ore che incentivare eh il continuo affuso di aria fredda da nord incentivare questo il maltempo che agisce che dalle coste africane si porterà nel terreno meridionale eccolo guardate i nuclei che si formano in continuazione altra nuvolosità che sta arrivando da sud ovest prestiamo molta attenzione allora guardiamo questo è il maltempo che agisce tra Grosseto e Ancona lungo allenamento guardate piogge piogge anche nelle zone alluvionate vedete c'è stato un temporale poco fa nello spezzino piccolo ma intenso ma ecco che adesso è maggiormente sgombra di nubi questa zona ma altre piogge stanno per arrivare ve lo faccio vedere meglio da da un ecco qua questo già si vede molto meglio allora questo è un sono forti precipitazioni tra Grossetano Perugino e anche le le marche settentrionali poi qui le piogge residue che la fase di miglioramento che c'è eh nella campagna settentrionale dove ha più avuto moltissimo ed ecco altri temporali che si stanno formando qui ce ne sono altri nella zona delle Baleari ma questi che si stanno già formando nel terreno meridionale altra nuvolosità che sale da dalla Sicilia e vi voglio far vedere una cosa allora prima voglio condividervi subito per riallacciarmi a questo discorso all'immagine che c'è qua ecco questa è la previsione aggiornata dell'ultimissima emissione del modello americano queste che vedete sono pioggia abbondanti sono dalla mezzanotte di stasera alle dodici di domani ci sono dalle due alle due perché va con l'orario eh di Greenwich e guardate cosa porta trecento millimetri ancora tra napoletano beneventano eh parte della Basilicata e altri nuclei che arrivano sud Sardegna basso tirreno insomma tutta una struttura temporalesca che sta per aggiungere mal tempo a quello già vissuto finora allora vi ricondivido invece le altre immagini perché eh voglio dunque andiamo di nuovo su sulle carte perché voglio allora innanzitutto qui ripeto c'è tutto nel ramo scusate faccio voglio precisare bene alcune cose perché sono molto importante un ultimo aspetto questa che vedete eccola qua meglio qua questo è il ramo ascendente della corrente a getto subutopicale ma tanto per senza tecnicismi questa zona proprio da per la fisica dell'atmosfera è deputata alla formazione di grosse cellule temporalesche nelle prossime eh dodici ore perché proprio eh la di oggetto e qui tenderà a formare nuovi nuclei quindi diciamo anche la teoria ci dice che ci saranno ancora forti temporali chiusa questa parentesi vi faccio vedere ora le previsioni del 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 modello americano ultima emissione eccolo qua guardate allora questa è la saccatura vedete com'è ben articolata non approfondita come il vortice come il nucleo del vortice polare ma queste correnti ci portano tanta pioggia ecco qui guardate come scende in dodici ore ce lo ritroviamo già nel mare del nord poi Francia e martedì eh lunedì notte alle alle soglie del alle porte dell'Italia e qui ecco che induggia questo grande nucleo gelido del del vortice polare induggia qui nell'Europa centrale qui arrivano correnti nel nel Mediterraneo nord occidentale occidentali con fresco maltempo e poi guardate come si articola e tende a venire verso sud e ci porta questo tipo di di assetto barico nuove precipitazioni forti al nord e sul tirreno eccole qua queste che dovrebbero avvenire proprio nella giornata di giovedì quindi prestare attenzione e poi andiamo avanti rapidamente poi migliora il tempo diamo uno sguardo in avanti nel prossimo weekend migliora ma poi c'è sempre la tendenza a risalire da parte dell'anticidone delle azore o degli anticidone comunque atantici e a e a portarci delle altre correnti meridio eh nord orientali verso il Mediterraneo guardate eccole qua dalla Scandinavia verso il Mediterraneo e questo ci porterà altro freddo e altra instabilità che vi ho disegnato nella carta che ho alle spalle bene questo è quanto sta accadendo vi vi ricondivido quindi le altre di nuovo le mie immagini e ricapitoliamo con quello che vi ho detto finora con quanto eh ci siamo detti allora queste forte peggioramento che avviene in nottata dopodiché questa è la fase attuale che ci ha portato il maltempo odierno poi arriva il nucleartico eccolo qua adesso è un po' diversa tende a rimanere un po' più su ma ci porterà un abbassamento notevole delle temperature soprattutto al centro nord eh nella giornata di tra lunedì sera e tutta la giornata di martedì con nevicate anche sulle Alpi per adesso più concentrate sui rilevi esteri ma insomma nevicate che potranno scendere anche a mille mille duecento metri poi guardate eccola qua la nuova fase di maltempo tra giovedì e mercoledì sera e giovedì che potremmo portare altri forti al nord quindi ricapitolando andiamo rapidi attenzione prossime ventiquattro ore ancora forti piogge soprattutto tra Campania Basilicata e il Calabria Tirrenica Settentrionale ma altri rovesci forti tra Toscana Umbria e Marche sono in atto e continueranno ancora per le prossime ore e qualcosa anche nel Lazio potrebbe comparire nelle prossime ore nel Tirreno coinvolta anche la Sardegna soprattutto Sardegna Meridionale queste zone soprattutto Campania Basilicata sono a rischio e no ancora fenomeni luvionali attenzione nelle prossime ore poi arriva il nucleo artico eh instabilità grandinate ma piogge meno meno estese meno continua meno persistenti poi dopo invece un forte peggioramento potrebbe interessare il nord nella giornata di giovedì proprio a fine mese prestiamo attenzione a tutte queste fasi e poi a continuare ottobre si sembra debba essere comunque sempre instabile e anche fresco c'è di tutto iscrivetevi al canale YouTube cliccate sulla campanellina per farvi arrivare le notifiche che talvolta mi dicono che non gli arrivano dovete cliccare sulla campanellina e vi arriveranno probabilmente sempre un abbraccio continueremo a aggiornare in continuazione grazie a tutti e mi raccomando prestare attenzione per alcune regioni alle prossime ore ma ci raggiorniamo ciao ciao grazie a tutti